Successo a Salerno per l'iniziativa il piatto sospeso messa in campo dalla cooperativa sociale Galad con il patrocinio delle politiche sociali del comune e in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile. Già 250 i pasti donati alle famiglie in difficoltà dai locali salernitani aderenti al progetto e dai cittadini. È un Natale difficile per tutti. L'iniziativa solidale è fondamentale per aiutare chi sta veramente in difficoltà. Due volte al mese forniamo i pasti per le famiglie indicate dalla Protezione Civile e quindi dal comune mentre gli altri giorni provvediamo con l'aiuto delle persone, della generosità delle persone comuni quindi clienti e non clienti che sono passati da qui e hanno lasciato il passo sospeso. La cosa toccante è che chiaramente abbiamo avuto anche modo di parlare con queste persone e sono veramente tanti che sono rimasti senza lavoro e quindi di conseguenza senza casa in enormi difficoltà. Questo è bene che si sappia e che si provveda, non solo in questo modo chiaramente.